La polizia del parco è affidata alla cura e al senso civico di chi lo frequenta. Recita così il foglio affisso all'ingresso del parco di via Caprera a Centinarola di Fano, un richiamo alla responsabilità di chi lo frequenta che però non produce gli effetti sperati. Ci troviamo nello spazio verde di fianco all'ex scuola elementare, nato dalla volontà e dal progetto di un comitato che si era costituito tre anni fa. Grazie al sostegno del comune di Fano i residenti sono riusciti a realizzarlo, ma c'è chi non ha rispetto per la cosa pubblica. Panchine di velte, cartelli informativi danneggiati, ma anche sputi sulle macchine e schiavazzi notturni, un problema che riguarda pure altre zone del quartiere e che esaspera chi ci vive e chi si adopera per sistemare i danni provocati. Anche la segnalazione nasce per questo, per accendere un riflettore sulla necessità di un senso civico. C'è gran parte dei frequentatori che lo rispettano, chi viene a fare ginnastica, che è a giocare bambini, anziani, però c'è sempre il gruppettino che vuole esagerare e diciamo che con il gesto di un minuto distrugge il lavoro di anni, di progettazione di anni. Quindi una richiesta a tutte le persone che vivono in quartiere di frequentare il parco stesso, perché frequentandolo già lo si protegge e allo stesso tempo diventare tutti, tra virgolette, un po' poliziotti, non avere sempre la necessità di chiamare le forze dell'ordine, dare un occhio e valorizzare questi posti rendendoli sempre più vie. Questi episodi devono finire, si legge in uno dei messaggi arrivati alla nostra redazione. Il luogo è per tutti, ma ha delle regole che vanno rispettate, altrimenti saremo costretti a malincuore a prendere dei provvedimenti come togliere definitivamente il tavolo. E loro sono solo alcune delle persone che puliscono il parco e riparano quanto rotto e poi ci sono i bambini che lo abbelliscono con creazioni del tutto particolari. Questo, ad esempio, è del filo di lana utilizzato per sistemare la rete di velta. Cerchiamo un po' di fare la spola tra casa e parco e darci dei turni per rendere dignitoso l'ambiente. È un ambiente, ripeto, che è stato pensato in una dimensione molto intima, quasi magica, quindi con giochi diversi dal solito e atmosfere diverse dal solito. Ci tenete a lanciare anche un appello all'intera comunità? Sì, esatto. Abbiamo fatto la segnalazione proprio per questo scopo, per lanciare un appello oltre che ai genitori dei ragazzini che vengono qua, anche alle forze dell'ordine che vengono a controllare, ma anche proprio al senso civico e alla responsabilità di tutti, perché è un posto pensato per tutti, per il benessere di tutti e quindi vale la pena proprio valorizzarlo anche.